Credere in Dio non è per niente facile, perché affidarci a Lui significa cambiare la nostra vita, cambiare quelle prospettive, quei modi di fare, di pensare, di agire che hanno nulla a che fare con Cristo. Con centinaia di migliaia di follower sulle piattaforme social, Don Cosimo Schena è diventato una figura di riferimento nell'era digitale. Ordinato nel 2009, è il primo sacerdote a cui Whatsapp ha concesso un canale esclusivo. Tutti i preti siamo chiamati a stare accanto alle persone, a stare vicino a tutti coloro che incontriamo nei vari luoghi dove viviamo. Attraverso i social per me è diventato un ponte per raggiungere quei cuori, quelle persone che nella realtà non posso incontrare. Però la Chiesa secondo me pian piano si sta facendo molto a strada su questo, infatti ci sono i cosiddetti adesso influencer cattolici, di cui faccio parte anche io e sono un gruppo di 60 giovani e meno giovani, preti e non preti, suore anche, che attraverso i social cercano di portare un'evangelizzazione un po' diversa, più all'avanguardia, più al passo del momento. Il prete Brindisino ha fatto tappa anche ad Arezzo per presentare il suo nuovo libro, L'uomo nel cuore di Dio. Abbiamo bisogno di uomini di buona volontà come Don Cosimo Schiena che oltre ad essere un prete è anche un uomo che ci sente moltissimo, soprattutto per il momento storico nel quale viviamo. C'è bisogno di pace, di uomini che portano la pace e c'è bisogno di uomini di buona volontà. Io cerco di portare agli altri quello in cui credo. Il mio desiderio è sempre di non dire agli altri ciò che per primo non vivo. Quindi penso che alla gente arrivi anche questo. E poi spero che almeno un cuore, attraverso le mie parole, possa ritrovare un po' di sollievo, un po' di speranza e gioia di vivere, che ne abbiamo tutti bisogno.